Salve a tutti ragazzi, sono Mattex e bentornati in questo nuovo episodio della Calendatore con i Venezia qui su IA22 Oggi è l'episodio più importante della stagione perché sarà il finale di stagione Oggi andremo a vedere la semifinale di Europa League, il ritorno contro il Villareal e le ultime 3 di campionato Napoli, Atalanta e Fiorentina Io spero di poter simulare magari l'ultima partita perché magari siamo già tranquilli della qualificazione alla Champions League Spero possa essere così, noi attualmente siamo a più 5 sull'Atalanta Vanno vinte le gare contro Napoli e Atalanta, quantomeno pareggiata magari quella col Napoli, vinta quella con l'Atalanta Perché è lo scontro diretto che abbiamo lì C'è ancora in ballo la potenziale vittoria del campionato ma quella noi non la guardiamo Attenzione anche al Milan perché ha 65 punti e a scontro diretti noi partiamo sfavoritissimi Nel caso, ma sapete, cosa possa succedere? Può succedere, non succede, ma se succede ci sarà un episodio dedicato Faremo quell'episodio dedicato più tutta la recensione diciamo della stagione Con i voti ai giocatori, i gol, assist, presenze che hanno fatto tutti, la crescita eccetera eccetera in quell'episodio lì Qualora noi non dovessimo riuscire a far quella cosa là Ci sarà oggi, sarà in questo episodio Quindi farei la conferenza stampa per partita Quale approccio adotterà questa sfida senza busio? Abbiamo una rosa di qualità Abbiamo tanti giocatori di qualità in rosa in grado di poter, di non far ripiangere busio ecco Passa lo 0-0 per passare il turno Con quell'atteggiamento scenderete in campo E' importante mettere in realtà la concentrazione Tra l'altro alcuni di voi mi hanno detto che nei commenti Cioè o meglio, mi hanno detto nei commenti che il gol fuori casa non vale più doppio Regola che appunto è stata tolta anche nella realtà Dopo l'1-0 dell'andata Ma non è finita 1-0 l'andata E non cambierà nulla, ma non è finita 1-0 l'andata Qua valgono i gol fuori casa, non lo so, non lo so Scusate ma dobbiamo chiudere qui con le domande Chiudiamo qui con le domande Grazie e arrivederci Arrivederci E' giunto il momento della gara di ritorno Di Europa League, la semifinale Audero in porta Per il Venezia Carboni, Bartra, Singo e Geneghi Quattro di difesa La figna, Fagioli, i due di centrocampo Con Mbuku e Del Ciarovi sulle fasce Bernadeschi sulle tre quarti Unica punta Capitan Pululu Il miglior magliancatore fin qui del Venezia In questa competizione Venezia che dopo il 2-2 dell'andata Deve vincere Chi amata a fare una grande prestazione L'obiettivo iniziale era quello di Entrare nell'Europa League Partire dei gironi Poi man mano l'obiettivo si è sempre Innalzato Adesso l'obiettivo è arrivare in finale Dall'altra parte però c'è il Villareal Con un Aiemeri In panchina Rulli, Mandi, Pegna, Stones E Moreno in difesa Paquetà, Fabian Ruiz, Vegorst E i Vobi a centrocampo Davanti Boadu e Ghiri Una formazione molto Molto forte quella del Villareal Tra l'altro in panchina c'è un Aiemeri Esperto dell'Europa League Comincia Venezia contro Villareal Villareal che nella realtà Lo scorso anno ha vinto Proprio l'Europa League Quindi Non è l'ultima arrivata di questo Di questa competizione Forse l'ultima arrivata è sempre proprio noi Facciamo attenzione Boadu Guiri Bravo Bartro a chiudere Poi la palla però resta lì Fabian Ruiz Boadu Audero in calcio d'angolo Un giocatore che è rimasto Praticamente fuori Brutto fallo su Su singolo Abitro lascia correre E proviamo ad approfittarne Mbuku Fagioli Che poi Non dico fosse rosso ma Mbuku Il cross verso Pululu Che prova una magia Sfruttando un mal posizionamento In difesa Pululu Vai Berna Forse fallo su Pululu Tra l'altro Di Vegor sta Già ammonito Ammonito neanche un minuto fa Cartellino giallo E via Rali in dieci Ammonito poco fa per il fallo su singolo Brutto intervento Su Pululu Già ammonito E vi darà resta in dieci Pululu Prova col mancino Pululu Ghiri Calcia E trova il gol 0-1 Poi si glitcha la testa 0-1 Gol mancato Gol subito Ivo B Carboni Prova a mettere fuori Stones Palla per Fabian Ruiz Palla corta Ghiri 3-0 3-0 E' quel game ragazzi E' quel game Cowles guarda al centro Fagioli prova col destro Poi Pululu La mette dentro Ed è fuori gioco Non c'è Non c'è una mezza gioia oggi per il Venezia Vai Cowell Che gol Mamma mia Cowell Tiene Almeno la dignità Questo Venezia Poi esulta Ve lo prendere il pallone L'ha andato a calciare Va bene Bel gol Bel gol di Cowell Dei pionieri Di questo Venezia Va in buco Cross al centro Forse mano Abito le lascia correre Pululu Fagioli Bernadeschi Da solo Bernadeschi Rulli Pululu ci prova Dalla distanza Rulli Ferma il pallone E su queste immagini Finisce qui Venezia Via Real 1 a 3 Il Via Real Schiaccio Al Venezia In una partita Non partita Possiamo dirlo Perché Dopo l'espulsione Come se Se si fosse Boh Rotto qualcosa Nello schema del gioco Perché Non siamo più riusciti A fare un'azione Non siamo più riusciti Ad andare a tirare Qualsiasi cosa Noi facessimo Era veramente Impossibile Da concepire Il 2 a 0 Arriva Non al 45esimo Come hai segnato lì Ma al 49esimo Quando i minuti Di recupero Non solamente due E non c'è stato motivo Per allungarli Ma finisce qui Finisce qui La nostra esperienza In Europa League Finisce qui La nostra Esperienza In Europa Col Venezia Per questa stagione Io Adesso Ovviamente Ripongo tutte Tutte le speranze Tutte le fiduce Fiducia Tutta la fiducia Nel campionato Perché Per passare Dalla Champions League Ora La strada È solamente una Solamente una ragazzi È solamente una Arrivare almeno Quarti Dall'altra parte 1-1 Tra Napoli e Nizza Napoli in finale Con il Villarreal Dopo la brutale sconfitta Contro il Villarreal Adesso Venezia Deve tornare Con i piedi per terra Deve tornare In campionato Perché ragazzi Ora ci tocca La sfida Col Napoli Una delle sfide cruciali Di questo Di questo campionato Mancano tre giornate Quindi ormai Sono tre partite Fondamentali Questa E l'Atalanta Ancora di più L'Inter Ha già giocato Ed è a 61 Quindi noi Vincendo Andremo ad allungare A sette punti Quindi l'Inter Non potrebbe più Riprenderci A questo punto Io spero che L'Atalanta Perda Spero veramente Questo Per la nostra classifica Non tanto peraltro Però è contro il Genoa Genoa 17 Che ci ha puniti Quindi vediamo Facciamo attenzione Bisogna veramente giocarci Tutto per tutto Contro Contro Napoli Questa volta la conferenza stampa Pre partita Non la faccio E oltretutto Si torna col vecchio modulo 3-4-1-2 Lo riproviamo ragazzi Perché le ultime partite Giocate Stiamo facendo Un disastro Quindi vedremo Non so se magari Sarà l'attenzione Di fine stagione Se sarà il modulo Vediamo Proviamo il 3-4-1-2 Vediamo come va il gioco Speriamo In Napoli contro Venezia Di uscirne i vincitori Burki Tra i titolari Per il Napoli Quattro in difesa Con Romagnoli Il capitano Rachmani Benzebaini E Williams Van de Beek Lovotka E Soler I tre Di centrocampo Davanti Boa Santos Politano Ed Insigne Boa Santos Che abbiamo avuto Al Valencia Per poco tempo In realtà Perché poi era Era dato via Oggi È titolare Nel Napoli Napoli che Si trova Qualche posizione sotto Al Venezio Venezia che arriva Da una sconfitta Molto dolorosa Contro il Via Real Oggi cercherà Di rifarsi In una partita Fondamentale Per la stagione Audero Tra i pali Difesa tre Con Davidovitz Lovato E Jackson Centrocampo Con Blanco Ruskin E Santos E il Ceraui Sulla tre quarti Non è così il modulo ragazzi Esposito Calvo Titolari E Kozlovski Perché tre tre Ma perché Comincia Napoli contro Venezia Blanco Esposito C'è Raskin Esposito a spazio Però allarga Adesso al centro C'è Calvo E il Ceraui L'ha visto Vede anche Kozlovski Burki in qualche modo Insigna Da solo al centro Cross Porta vuota Politano Fa l'1-0 Primo tiro Primo gol Politano Soler Van de Beek Audero Ci mette Igu Antonio Esposito Attacco per Kozlovski Poi Calvo Può aprire Sulla destra Per Santos Lo fa Santos A tu per tu Con Burki Santos Pareggia i conti Raffaello Santos Vuole restare Venezia In qualche modo Rendersi utile Alla squadra E il Chabat Il calcio d'angolo Cross al centro Verso Esposito Prova a staccare di testa La palla resta lì però Poi Santos Kozlovski A spazio Da fuori Ci prova Kozlovski Burki Vola E il Ceraui Corto per Raskin Che va subito al cross Verso Lovato Burki No Santos Brutto passaggio Non era lì Van de Beek Boa Santos Da un Santos Cross all'altro 2-1 Kozlovski In profondità Verso Esposito Che deve mettere giù E proseguire Lo fa Esposito Contro Burki Prova Esposito Ci mette Penso il guantino Burki E calcio E calcio d'angolo Che tiro Che parata Mamma mia Il Ceraui Tocco sotto Esposito Stop Provaci Cross al centro E calcio di rigore Calcio di rigore Calcio di rigore Mano di Williams Sul dischetto Prova Esposito Contro Burki Esposito La mette Sotto Pogo La traversa 2-2 Regge Conti Venezia Davidoviz Poi Pululu Finisce 2-2 Tra Napoli E Venezia Col brivido Col brivido Nonostante Comunque Napoli Di Veramente grosse cosine Ne hanno avuto 3 Poi pressing Totale Del Venezia Un 3-4-1-2 Che Non mi ha deluso Oggi Non mi ha deluso Mi hanno deluso I giocatori Perché ragazzi I due gol Che abbiamo preso Sono stati per due passaggi Sbagliati Di due giocatori Che sono in lista Trasferimenti Questo Fa capire un po' La situazione Però poi Il gol di Santos Il gol di Esposito Su rigore Accorciano E troviamo un pareggio Molto importante Perché Arriviamo veramente Da un periodo in cui La vittoria È un miraggio Adesso dobbiamo Sperare Che l'Atalanta Cada In casa Cosa che non avviene Ortiz Se ne va in presito Alvisela Per un anno Quindi quando comincerà Il calcio mercato Se ne andrà Siamo terzi ragazzi Siamo terzi A 66 Con sotto il Cagliari A 64 E l'Atalanta A 63 A E l'Inter A 61 Attenzione Attenzione Perché adesso c'è Inter Inter Salernitana E qua Già sappiamo Cagliari Sassuolo Può essere Equilibrata Venezia Atalanta Questa è la partita La partita Di giornata Di cartello E All'ultima giornata Ci sarà Ci sarà Venezia Fiorentina Atalanta Cagliari Cagliari Atalanta All'ultima giornata Ragazzi Cagliari Atalanta All'ultima giornata Oh 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 Questa è tosta Mamma mia Che campionato Ragazzi Mamma mia Che campionato Conferenza stampa Pre partita Poi facciamo la formazione E ci vediamo in grafica Ragazzi Possiamo cominciare Con le domande Avete disputato Una buona stagione In caso di vittoria Nell'ultima partita Centrale Estera Per il personale Champions League E ottimista Andremo in campo Per vincere Questo detto La prospettiva Di giocare in Champions League È grandissimo Per qualsiasi calciatore E anche per noi Ovviamente Vi attendo un vero E proprio scontro al vertice Contro l'Atalanta Non ci resta che attendere Aspettiamo e vediamo È così Atalanta e Venezia Sembrano equivalerci Almeno sulla carta Come apparcerete questo match Dobbiamo pensare a giocare bene Dobbiamo pensare a giocare bene I ragazzi Devono solo pensare a giocare bene La prossima partita Senza l'assilo Deve iniziare a tutti i costi Più o meno Ma Sì Più o meno Grazie a tutti Grazie Arrivederci E la penultima di campionato Uno scontro fondamentale Per la stagione Gollini Tra i pali per l'Atalanta Cup Miners Palomino e Frances A centro In difesa Centrocampo invece Ken della Cruz Alstenberg E Gosens Griezmann E Barrow A supporto Della punta centrale Che è Greenwood Una formazione Veramente forte Una formazione Veramente Veramente forte Atalanta che Vuole centrare La qualificazione Nella Champions League Come così Anche il Venezia Ed il Cagliari All'ultima giornata Ci sarà Proprio Cagliari-Atalanta Oggi Il Venezia È chiamato A fare una partita Importante Dopo La sconfitta Col Villareal Ed un pareggio Col Napoli Audero Tra i pali Confermato Carboni Davidoviz E Lovato I tre di difesa Confermato 3-4-1-2 Anche Rafinha Busio Centralia Centrocampo Con Haps E Mbuku Sulle fasce Bernardeschi Sulla tre quarti E attacco Che torna Ad essere Quello formato Da Esposito E Afimi Coppululu Comincia Atalanta Contro Venezia Buona partita E ragazzi Dite incrociate Fino a quando non fischia la fine Rafinha Apre per Mbuku Allarga Verso Esposito All'altra parte c'è Polulu Esposito l'ha visto Andare da solo Però Esposito Centra Cup Miners E prende la mano di Cup Miners Calcio di rigore E si presenta già un'occasione gigante Braccio Per il Venezia Calma Esposito Esposito Contro Gollini Prova Esposito A fil di palo 1-0 Per il Venezia Bravo Mbuku Che recupera Esposito Aspetta Pululu Brutto fallo di Delacruz Da dietro Cartellino rosso Per Delacruz E si mette Tra l'altro Esposito Va anche a dirgli qualcosa Si mette bene la partita Per il Venezia E malissimo Per l'Atalanta Calcio di rigore Praticamente a primo minuto Cartellino rosso Qualche tempo dopo Poi Pululu Finta Non riesce a superare il difensore Ma attenzione Adesso a non scoprirci Perché sappiamo Cosa vuol dire Cartellino rosso Per gli avversari Pululu Tocco per Haps Ritrova però il pallone Pululu Bravo Pululu Salta un uomo Pala al centro Per Bernardeschi 0-2 0-2 0-2 0-2 Kiko Bernardeschi Che palletta di Pululu Che palletta Bernardeschi C'è Gollini fuori Un po' intravisto Busio Largo per Buku Colmancino Affonda Affonda L'Atalanta 0-3 Nei primi 25 minuti Pululu Esposito Amministra il pallone E allarga per Buku Poi c'è Pululu al centro Ha visto anche Busio Busio Pululu Dall'altra parte c'è Haps L'ha visto Haps 0-4 0-4 E il Venezia Mette a sedere L'Atalanta E io ragazzi Con tutto il bene del mondo Ma vado al risultato 4-0 4-0 0-6 Ma questo era l'obiettivo Ma questo era l'obiettivo Arrivare in Champions League Giocarci Forse L'ultima stagione Col Venezia In Champions League Fermi Allora I milioni L'ha fatto benissimo Simulare Siamo adesso Contro la Fiorentina Una partita che andiamo a simulare velocemente Sperando in un risultato positivo Che non arriva ovviamente Quest'anno non Non riusciamo a simulare A simulare bene Cipurga Chiesa Cipurga Chiesa All'85esimo E' una partita però che in realtà era un po' fine a se stesse Nel senso che noi potevamo puntare forse un pochino più in alto In classifica Arriviamo quarti Confermato il nostro quarto posto Sopra di noi Milan e Cagliari Con 71 e 70 punti Mi spiace in realtà perché Siamo lontani dal secondo posto per due punti Quindi la vittoria ci avrebbe portato al secondo posto Bel lavoro Bel lavoro Aumenta il valore del club L'abbiamo fatto Offerta per Santos Dal Boca Junior Che io andrei a trattare Ma comunque è un'offerta che Che secondo me ci può stare 5-2 con la rivendita Ti tolgo la rivendita Faccio un 5-5 Affare fatto Affare fatto Santos andrà a chiudere Penso La carriera in Argentina E' offerta per Blanco dal Tottenham Nice 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 E qui ragazzi lascio a voi Qui ragazzi lascio a voi l'intento La possibilità di scelta Questa va trattata Però va comunque accettata Ragazzi Diamo un'occhiata alle statistiche Di questa stagione L'uomo con più presenze E' Pululu Con 48 presenze 27 gol E 10 assist 44 invece per Audero 39 per Buku Ed Aps 34 per Carboni Rafinha Bernadeschi D'Esposito Tra l'altro D'Esposito Zitto zitto Si è fatto 34 presenze 31 Bar Tra 30 per il Ciarawi E Lovato 29 per Kozlovski Blanco 27 Busi e Fagioli 24 Davidoviz 23 Cowell 19 Calvo 19 Raskin 19 Tesman In presito Al Sassuolo Diciamo anche per Jackson Qui di seguito Trovate tutte le altre Vi faccio vedere anche Alla Alla veloce Il maggior numero di reti L'ha fatto Pululu Con 27 gol 12 per Esposito 11 per Ambuku 10 per Bernadeschi 7 per Calvo 6 per Aps Questa stagione ha segnato Un po' di meno Aps Un po' di delusione Calvo Però potrebbe rifarsi Magari la prossima stagione Uomo assist E anche Afimico Pululu Con 10 assist 9 per Calvo 8 per Rafinha E via Dicendo Mamma mia ragazzi Che stagione Ortiz Più 8 tra l'altro Si è fatto Ma perché hanno cambiato Un sacco di ruolo Ragazzi Questi anche In Velox I plus Che hanno fatto In questa stagione Tutti i nostri Tutti i nostri giocatori Alcuni Stanno rientrando Anche dal presito Barth Probabilmente se ne andrà Perché sta Tra l'altro Anche decrescendo Ragazzi Questo è quanto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Che Che ci vedrà Con L'inizio Della nuova stagione Dove andremo Probabilmente Simulare Le prime due Del campionato europeo Faremo Faremo Il lancio Nella nuova stagione Con La partita contro L'Inghilterra Avremo poi Tanto 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 calcio Mercato Avremo veramente Tanto di cui discutere Vi aspetto Nel prossimo episodio Per stare sempre qui Connessi Con Il Nostro Venezia Curiosità Il Napoli Vince l'Europa League Il Napoli Vince l'Europa League Doblette Per il Napoli Bayern Leverkusen Vince la Conference Champions League Che vince Il Paris Saint Germain 3 a 1 In finale Con l'Atletico Questo è quanto Ragazzi Un bacione Un salutone Vi ricordo Tutti i link In descrizione Alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi